Benvenuti a questo video di pubblicità Lo so, avevo detto che non facevo più video di pubblicità Però, siccome questa persona se la merita davvero tanto Perché grazie a lui ho il mio bellissimo sfondo Questo qui Dove se clicchi qua Aspettate, ok Se clicchi qua andate sulla mia pagina Mentre, a parte che ce l'avevo già aperta comunque Mentre se cliccate qua andate su Twitter Anche se ce l'avevo già aperta anche questo Vabbè che qua avrò messo sia il Il coso di Youtube che quello di Facebook Ok, ho deciso di iniziare a utilizzarli molto di più Twitter e Facebook Quindi se mi volete seguire seguitemi sia su Twitter che su Facebook Allora, che volevo dire Si chiama iMarkiop Se volete iscrivervi bastate che cliccate qua Ha per ora solo un video di New Super Mario Bros 2 il trailer Se lo potete seguire su Skype E ha dato anche la sua email E diciamo che grazie a lui ho il mio avatar E il mio sfondo Che secondo me sono veramente un bello sfondo Un bell'avatar Quindi giustamente Faccio questo aspetto A parte che questo è aperto con Quello per i video Allora, apri con Questo Ecco qua Con Facebook, Youtube e Twitter Il nome e l'immagine di Magmortar Di Magmortar E infine lo sfondo Come se... Si, vabbè, l'avete visto anche voi Giustamente E... Che volevo dire? Nulla Iscrivetevi a 6 iscritti A 6 iscritti 19 visualizzazioni del video Giustamente ne ha solo una Ne ha solo un video Allora, se dovrebbero essere 20 Ha il suo sito web Mi ha offerto anche di farmi fare un intro Per il... Per il... Coso Per il canale Però non mi interessava E... Che posso dire? Vabbè, iscrivetevi Seguitelo Giustamente farà altri gameplay e trailer Metterà E commentate, iscrivete E un'altra cosa che volevo dire È che A parte, vabbè, come ho detto Non faccio più video Eh... Di ringraziamento Sì Di... Di... Sì, di ringraziamento Fino a mille Non faccio più video di pubblicità Non accetto... Non accetto nessuno Eh... Sono alcune eccezioni Poi... Poi guarderò io quali Su... Eh... Mio vero account di Facebook Ma solo sulla pagina Giustamente Mettete solo mi piace Solo sulla pagina Se volete seguitemi su Twitter E... Eh... Sì Faccio sub for sub Ma solo con Giustamente Chi ha un bel canale E mi piacciono i suoi video Quindi giustamente Se... Non mi... Cioè Non è che Se non mi piacciono Cioè Se non mi ispira il canale Diciamo Diciamola così Non... Non accetto il sub For sub Giustamente Allora come abbiamo messo La parte 27 Di... Ehm... Come si chiama Di Bianco 2 Dove siamo in una giorn... In ventre ore Siamo già arrivati A 239 visualizzazioni Così continuate A scrivervi A commentare Soprattutto Perché mi piacciono I vostri commenti Spero che vi divertiate A vedere i miei video Mmm... Giustamente Le prossime guide Che arriverà Sarà il professor Layton Il... Il flauto... Il flauto... Sì Il richiamo dello spettro Ho già la prima parte pronta Ecco qua Guardate Vi faccio vedere Tutte le mie bellissime Parti già pronte Che c'ho già La parte 28 Di Bianco 2 La extra 4 Di... Bianco Poi fino alla 32 Di Bianco 2 E la prima parte Di Professor Layton Quindi per un po' Non faccio video Giustamente O li faccio E li metto qua Le accalco Questo qui è la parte 27 Che è ancora Che ho già caricato Quindi E... Poi Datemi voi un consiglio Non so cosa fare Se iniziare Quella di Super Mario Land 2 Giustamente Questi due giochi Li faccio A meno Anche se vuoi dire Non mi piace O... Guarda Vorrei che ti facessi questo Comunque Questi due giochi Li faccio A prescindere Se mi consigliate Altri giochi Da fare Che magari Posso prendere Anche in considerazione E quindi poi dopo Successivamente farli O Super Mario Land 2 6 Golden Coins Che è un giochino Un giochino Vecchissimo Un giochissimo Ho detto Un giochino vecchissimo Del... Come ho già detto Del GBA No Del GBC Game Boy Color O se no Light Platinum Quindi decidete voi Quale volete che inizi Per primo Light Platinum E ora vi faccio vedere Un piccolo inizio No Non ve lo faccio vedere L'inizio Se no vi rubo il gioco Praticamente Cioè Sono Fino al Pokémon Della quinta generazione Hanno cambiato Tutta la regione Tutta È una storia diversa Però in portoghese Purtroppo Quindi È un piccolo Let's play Che voglio fare io Che si va avanti Nel gioco così Quindi Ditemi voi dopo Leighton Infatti sto cercando Di finire bianco Proprio per questo Almeno inizio sia Leighton Che quello lì Che il Light Platinum Così mi rimane N6S Che Ce la posso fare A caricare una parte Di N6S Bianco 2 Che Abbiamo già L'ottava medaglia Cioè ci mancherebbe D'abbattere la Lega E poi fare le parti extra Quindi anche questa Siamo alla fine Si può dire Cioè ci mancherebbe Pochissimo Bianco E questo N6S Che piano piano Ce la faccio a finirlo Perchè dovrei farlo Le parti le devo fare Con la pennina Su Sul La play 3 Con la pennina Che poi dovrei mettere qua Dovrei renderizzarle Subito E successi dopo Devo Commentarle Quindi è un lavoro Abbastanza lungo Quindi Ci metto un po' Voi intanto guardate queste guide Poi piano piano Caricherò anche in 6S Ok E che devo dire Iscrivetevi al mio canale Sempre a soliti Quindi ho Loredi Keyholder Mildragon 97 Agd Channel 97 A Canali Se vai per 97 Arcanine C85A E anche a Vera Va Perchè ci piace Quindi continuate a seguirmi Iscrivervi a votare E a commentare Mettere mi piace E Ci si vede In un'altra parte Di Di bianco Parte 28